Che danni, che danni regà, che danni, mamma mia, oggi sarà la prima puntata, sarà una puntata compatta e unita in due parti, la parte messaggero e la parte messaggero, quindi l'osservatorio non ha soldi, tuona Pietro Tidea che dice che è inutile che facciamo tanto gli ignorati, che cerchiamo di mettere macchinari, non ci stanno neanche per paghe dipendenti, vediamo un po', la nazionalizzate, nazionalizzate, poi che dice, che dice, che dice, che dice, ballottoni, balloni, io dico sì, va al ballottaggio, no, 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 no Io te dico, io te dico, Alvarucci, oh, Alvarucci e Camilla, è un casino, ora Pietro te caccia, sì, Pietro se nervosisce, lo conosci, no, lo conosci, lo conosci, buffo, non lo conosci, il sequestro passaggio per l'oculio, l'abbiamo detto, ma qua, ecco, la foto, questa è qua, poi vediamo il video Ecco gli HGS, scontro tra M5S, Stelle, Estrela, Mas Bonita e Pitch, ha provato il piano per tutela dei boschi a Tolfa, il DLF è troppo piccolo, non è agibile per 60 cm Quindi come diceva Marco, Zimbertino, Zimbertino, gli fai dei piani infarto, darà qualche cinquina a qualcuno A Zimbertino gli fai dei piani infarto, purello, perché... Capo stretto, beffa per DLF, non ho pianto sintetico, non ho mai per 60 cm Allora, guardate le belle foto, Ismael ride pure, con l'occhiali guarda un'azienda intellettuale Cazzo, Ismael tiene una bella fascina Allora, commentiamo le foto, guardate Pietro da, dove sta, si vede? No, allora sì, guardate Pietro proprio da gran condottiero, qua, dove sta, eccolo qua, Ismael è un amico nostro che ride Stella, al fianco del Sol Pietro, la coppia Qua dietro spunta uno Scilipode che dice, ma proprio a me mi è toccato vicino a me Sì, proprio a te, Scilipode Sì, proprio a te, vicino a me Guarda che faccia? Buon amè, buon amè Quindi scappo stretto a DLF, il Sant'Ella è costretto a migliare al Fattori per il 2.0 Il campionato di Fattori, ma io vedo una notizia ancora più dei giornalisti Non si giocherà al Fattori, ma si giocherà alle tre a Cepedri Quindi comunque vuole vedere l'armata viola, perché per me siamo entrati viola Deve venire al Cepedri, al Galli di Cepedri Tamaglio 21 Tamaglio 21, io Pirlo e Zidane Giuffrida e Nerazzurro l'ufficiale, dopo Spagnolo, Moschino, Arieta e Graziani anche Giuffrida e Viscela, Viscela attende la galottina a chiodo Io faccio un appello al Giordano L'SNC mutilata Il grande Giordano è proprio forte, o, cioè nazionale pure mi ricordo Non può smettere così, è come se smette Corinti da fare il dottore È un macello È il dottore, è un macello, è un macello Va bene, al minimo cercheremo di montare queste puntate, vedremo che succede Vediamo Un salutone Alla prossima Sì, ora siamo davvero da Tommassini, no? Sì, ora siamo, però io lo chiamo a mio padre Eh, lo chiamo a quanto ci serve che ci accompagniamo Ti accompagna a Cepedri oggi Il bocca al lupo, signori Credo È stato bello suonare insieme a voi questa notte Io c'ho raffreddore, moce